Suncubes è nata come idea innovativa seguito dalla partecipazione da parte del team all'Italian Space Startup Competition e l'idea è nata perché non costruiamo un cubo di energia e da lì è nato tutto. Si occupa di sviluppare sistemi di trasmissione di potenza wireless utilizzando la tecnologia laser. È stato un onore essere qui veramente, soprattutto con il CEO presente. È stato un onore essere qui oggi.